Un uomo che aveva condiviso e attraversato per tutta la vita un'intensissima passione politica senza mai perdere la sua natura, se volete anche discutibile, di essere umani, ma senza mai perdere, senza mai assumere quella sorta di sguardo rettile o di distanza dal resto del mondo che oggi siamo abituati a considerare in tratto distintivo la cifra esistenziale del politico. Quella che possiamo considerare una novità nella costruzione di questo film è l'incrocio di linguaggi tutti diversi, dalla narrazione appunto del narratore alle testimonianze eccellenti che parlano del personaggio, i repertori, molti dei quali anche originali e particolarmente divertenti in certi casi, e soprattutto la grafica animata. Per poter narrare i momenti così più difficili storicamente che non hanno immagini a supporto, come la fuga di Turati oppure anche la celebre evasione della Regina Celi. Insomma tutto questo frullato insieme, questa miscellanea di sapori e di stili, per ridare unicità a un personaggio che aveva invece tanti aspetti, tante facce e tante diverse angolazioni da cui poterlo guardare. Questo documentario in particolare voleva inizialmente evitare il rischio della geografia, cioè della santificazione di Pertini e che poi ci è caduto in pieno con i piedi perché per quanto andassimo cercando zone d'ombra non ne abbiamo trovate, non siamo stati capaci di trovarle. Morda, so come il mondo!